ciao e benvenuto a questo terzo video della serie intitolata consapevolezza ritmica andiamo avanti con lo studio e l'analisi dei nostri gruppi oggi analizziamo il gruppo da quattro sempre con lo speed up per da 60 80 per la durata di un minuto ogni battuta la ripeteremo solo due volte questa volta non quattro come prima andiamo 1 2 1 2 1 2 è andata data 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 Tagadau Tagadau bene anche per questo video dedicato al gruppo da 4 abbiamo terminato ci vediamo nel prossimo video con il gruppo da 5 ok ciao